Il sito di San Martino sulla marrucina della BOL Beverage chiuderà il 31 dicembre, spostato simbolicamente il giorno di chiusura della multinazionale americana dopo l'accordo raggiunto nella giornata di ieri, dopo una lunga giornata di trattative. La CISL questa mattina ha fatto il punto della situazione sottolineando l'atteggiamento di chiusura dei vertici della BOL che ha fatto sfumare anche la cassa integrazione. Diciamo che abbiamo raggiunto un accordo che è stato votato ai lavoratori in modo unanime. L'accordo prevede due principi, uno la possibilità di gestione di stabilimento per chi è interessato, l'altro favorire la preoccupazione di tutti i lavoratori. È un accordo che giudichiamo positivo sotto l'aspetto economico, però lascia la mare in bocca perché abbiamo perso l'occasione di fare la cassa integrazione. Mettiamo fine a un'avvertenza molto dura, abbiamo avuto un'azienda molto arrogante, si è presentato in stabilimento con le guardie armate, ha cessato l'attività produttiva in modo unilaterale e ha preventivato la chiusura di stabilimento per il giorno di Natale. È stata un'azienda che fin dall'inizio si è dimostrato poco attenta alle problematiche sociali e ha fatto saltare anche l'accordo al Mese. Giudichiamo in modo irresponsabile di gestire un'avvertenza. C'è bisogno di mettere un freno a questi multinazionali che depredano il territorio, distruggono il lavoro e non si prendono responsabilità sociale. Penso che questo sia un impegno alle parti sociali da fare insieme alla politica per il 2019.